Ciao a tutti da Cristian TJ, Fabrizio Pacifici, grandissimo organizzatore di bellissimi eventi e presentatori. Non è una voce, è pura realtà, veramente io mi complimento con te e è una sorpresa per molti amici. Io saluto gli amici di Facebook, Twitter, MySpace, Google, Virgilio, Eventiro.com, le piazze, i mercati e tutte le radio che ringrazio di essere tra noi, grazie a Cristian che è un grande matto. Grandissimo Fabrizio, ciao a tutti, Cristian TJ, Fabrizio Pacifici, ricordiamo il sito eventiroma.com, ecco qua.